In questa puntata di Unicam News, gli studenti danno 30 lode all'Università di Camerino. Dalla Regione Marche finanziate 34 borse di dottorato. A Unicam il primo seminario sul gender mainstreaming. Ancora un successo per il campus estivo a scuola di natura. Questi titoli li abbiamo sentiti ma vediamo subito il primo servizio. Gli studenti danno i voti ad Unicam ed esprimono ancora una volta un giudizio estremamente positivo sulla qualità dell'offerta formativa e dei servizi offerti dall'Università di Camerino. È quanto è emerso dai risultati delle indagini sulla soddisfazione degli studenti che vengono condotte periodicamente dal nucleo di valutazione di Ateneo certificato dal 2001. Il 93% degli studenti Unicam si dichiara infatti soddisfatto della propria scelta universitaria e il 94% suggerirebbe ad un amico di iscriversi all'Università di Camerino. In questo particolare momento di crisi che investe l'intero paese poi emerge un ulteriore significativo dato. L'81,3% degli studenti frequentanti si è detto soddisfatto della congruità dell'importo delle tasse universitarie con i servizi che l'Ateneo mette a disposizione degli studenti. Da tempo l'Ateneo ha deciso di porre gli studenti al centro delle proprie scelte strategiche mantenendo infatti elevata l'attenzione in particolare nei confronti di coloro che mettono il massimo impegno per conseguire il titolo di studio con un ottimo profitto. L'intento e la sfida per Unicam sono quelli di riuscire a formare persone preparate e che possano fare del merito e dell'impegno il loro biglietto da visita. Ancora un grande successo per l'Università di Camerino. Sono infatti 34 i progetti Unicam che hanno ottenuto un finanziamento nell'ambito del bando della Regione Marche relativo al cofinanziamento di borse di dottorato in collaborazione con le imprese. Abbiamo incontrato il rettore Unicam, Flavio Corradini. Sì, ovviamente grande motivo di soddisfazione. Da un po' di anni l'Università di Camerino si è messa in testa di essere uno stakeholder importante di questo territorio. Abbiamo detto tante volte che vogliamo essere vicini al sistema produttivo e in particolare agli imprenditori del nostro territorio. Come dire, questo importante successo manifesta che il percorso intrapreso dalla nostra Università pieno di serietà e di qualità porta poi dopo a rapporti stabili di collaborazione. Queste 34 borse di dottorato che sono cofinanziate rispetto a un terzo ricordo, un terzo all'Università, un terzo alla Regione Marche e un terzo all'impresa mostra che c'è un sistema importante di collaborazione che vogliamo perseguire ancora anche per il futuro con estrema trasparenza e serietà. Evidentemente l'offerta di ricerca e di innovazione tecnologica che la nostra Università mette a disposizione è una festa interessante per i nostri imprenditori e così vogliamo procedere per il futuro. Fino ad ora abbiamo parlato dell'Università di Camerino, ma è un rapporto di collaborazione che abbiamo voluto tra la Regione Marche e i quattro Tenei marchigiani. Quindi anche da questo punto di vista evidentemente quando si lavora in squadra, quando si lavora insieme, i risultati arrivano non solo per le singole università, ma per tutto il sistema regionale. Nell'ambito del progetto Donne e Scienza proposto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal Dipartimento Pari Opportunità, l'Università di Camerino ha di recente istituito la scuola di Management del Gender Mainstreaming nata per favorire, sostenere e diffondere l'affermazione della cultura di promozione delle parità e delle pari opportunità tra i generi attraverso la formazione e l'aggiornamento di conoscenze e competenze dei soggetti responsabili dell'attuazione delle normative nazionali ed europee. E sono iniziate subito le attività, il 10 e l'11 settembre, infatti l'Università di Camerino ha ospitato il primo seminario di approfondimento e formazione sul tema del Gender Mainstreaming nella scuola. L'idea in realtà è un'idea che nasce dall'incontro con il Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Università della Ricerca e dell'Istruzione. La nostra idea è stata promossa da queste due principali istituzioni e condivisa in un tavolo di concertazione che ha preso avvio già a partire dal 2010. Questo è testimonato dal fatto che nel comitato scientifico della nostra scuola che prende avvio nelle giornate di ieri e di oggi confluiscono i rappresentanti già di numerose università italiane e dell'Associazione Donne Scienza e poi anche la Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità. In effetti questa scuola è stata definita una scuola senza pariti perché ha come sede Camerino ma si vanta del fatto che sarà costituita dai maggiori esperti nel territorio nazionale sulle tematiche di genere. Noi siamo orgogliosi naturalmente di essere stati scelti come sede. Il compito che ci aspetta è Arduo perché si tratta di realizzare percorsi formativi rivolti a diversi settori. Abbiamo pensato di partire dal mondo della scuola perché naturalmente è dalla primissima infanzia che alcuni concetti legati alla costruzione dell'identità sessuale e all'identità di genere vengono maturati per cui ci siamo rivolti a tutti gli uffici scolastici regionali abbiamo avuto gran parte delle adessioni di tutte le regioni italiane che hanno inviato presso di noi delegati dei direttori generali e i referenti del piano lauree scientifiche. Sono intervenuti in qualità di relatori esperti provenienti sia dalla scuola che dalle università tra cui la Presidente della Conferenza Nazionale dei Comitati Pagli Opportunità delle Università Italiane Patrizia Tomio. Iniziative come quella di oggi che Camerino ha voluto ospitare secondo me dimostrano proprio un cambio di passo una nuova attenzione io credo e perciò io sono molto fiduciosa per il futuro. Purtroppo nel confronto con il resto d'Europa soprattutto con l'Europa del Nord a volte non ci sentiamo rassicurati però io credo che stiamo lavorando molto e non è un caso che per la prima volta quest'anno l'Italia è riuscita a portare una propria proposta per l'ottavo programma quadro dell'Unione Europea diciamo diretto proprio a focalizzarsi sulle pari opportunità e quindi credo che da questo punto di vista sostanzialmente l'Italia forse diciamo in una maniera insomma abbastanza recente ma comunque è riuscita proprio a promuovere se stessa e essere quasi precursore anche rispetto ad altri Stati europei. Anche quest'anno il Museo delle Scienze di Camerino ha ospitato il campus estivo a scuola di natura un'esperienza ludico-naturalistica dedicata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni per 10 giorni dal 27 agosto al 7 settembre i bambini e i ragazzi hanno avuto l'opportunità di divertirsi e trascorrere qualche giornata insieme giocando e allo stesso tempo seguendo percorsi che hanno consentito loro di conoscere meglio la natura e imparare ad osservarne i cambiamenti tenere comportamenti ecosostenibili e apprezzare la biodiversità e la ricchezza del territorio anche ad esempio tramite laboratori su tematiche particolari ed escursioni. Le giornate si svolgono presso il Museo delle Scienze utilizzando gli spazi del museo stesso l'area didattica e il cortile con personale qualificato che ha seguito i ragazzi per tutta la durata del campus. I ragazzi hanno effettuato anche attività presso l'orto botanico mentre tre giornate sono state dedicate alle escursioni. L'iniziativa è realizzata dal Museo delle Scienze di Unicam con la collaborazione del Comune di Camerino della Fondazione Carima e delle associazioni Smilax di Camerino e Idea 21 di Tolentino. E con questo è tutto l'appuntamento con Unicam torna il prossimo mercoledì vi ricordiamo che altre informazioni e altre notizie sull'Università di Camerino sono disponibili sul sito www.unicam.it Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.